Life for Energy, il finanziamento di B per banca destinato alle aziende che investono in efficienza energetica. È un finanziamento dedicato a tutte le imprese, piccole, medie e grandi, e che mira a supportare le aziende per qualsiasi tipo di investimento, dalla riqualificazione degli immobili, alle linee produttive, alla parte di cogenerazione, tutto ciò che riesce in un qualche modo a produrre un saving energetico e quindi a produrre per le aziende dei flussi di cassa. B per banca e banca pilota di questo prodotto, quindi unica banca in Italia, a poter promuovere questo strumento della Commissione europea che mira, tra le altre cose, alla riduzione delle emissioni di CO2 e agli obiettivi dell'Europa 2020. Grazie a tutti!